Musica Bentornati ad una nuova puntata di Avvocati Rispondono. Quest'oggi parleremo di multe illegittime elevate dagli ausiliari della sosta a Milano. Avvocato Bortolotti cosa ci dice? Ci occupiamo in questa occasione di un problema che non esito a definire piuttosto delicato, che però richiede un approfondimento anche in virtù delle tante segnalazioni che ormai riceviamo sul punto. Credo che parlando della città di Milano sia capitato praticamente a quasi tutti noi di trovare la brutta sorpresa di una multa elevataci da i cosiddetti ausiliari della sosta, che sono come molti sanno, sono dipendenti dell'ATM, l'Azienda dei Trasporti Municipali Milanesi. Occorre sottolineare che in diversi casi le multe elevate da questi soggetti risultano essere palesemente illegittime. Per quale motivo? Ci soffermiamo su questo argomento perché riteniamo che sia davvero di comune interesse, perché sia giusto che il cittadino conosca questa realtà giuridica e di fatto. Perché parliamo di illegittimità? Parliamo di illegittimità perché quando noi troviamo il foglietto cosiddetto della multa e abbiamo parcheggiato ad esempio in una zona riservata ai residenti, pur non avendone diritto, o abbiamo sbagliato lasciando la macchina un po' in curva, oppure con un paio di ruote sulle strisce pedonali, abbiamo sicuramente commesso una violazione del codice della strada, ma questa violazione può essere sanzionata solo dagli agenti accertatori che sono altrettanto chiaramente indicati nel codice della strada. Fra questi soggetti non c'è assolutamente l'ausiliario della sosta, bensì negli stessi foglietti della multa che loro ci lasciano sul parabrezza, se parcheggiamo nelle zone riservate ai residenti o abbiamo la sventura di dimenticarci la macchina un po' in curva, sono indicati anche riferimenti di legge in virtù dei quali loro possono agire e nel particolare sono una legge del 97, la numero 127, e una legge del 1999, la 488. Queste due disposizioni normative, combinato e disposto di queste due normative, individuano chiaramente le competenze degli ausiliari della sosta dipendenti della azienda di trasporto municipale di Milano e sono quelle di vigilare e sanzionare le eventuali condotte illecite esclusivamente sulle zone di parcheggio date in concessione di controllo alla stessa azienda municipalizzata, ossia le zone di parcheggio delimitate con le strisce blu, o le zone nelle quali debbono transitare in via esclusiva i mezzi pubblici, quindi le cosiddette corsie riservate. Tutte le altre zone, tutti gli altri accertamenti, tutte le altre contravvenzioni che questi signori pongono in essere in maniera anche assolutamente indiscriminata, è bene ricordare, sottolineare con forza che sono illegittime. Cosa fare dunque e come accorgersene? È molto facile accorgersene, perché quando noi torniamo alla macchina e troviamo la multa, mentre ci arrabbiamo possiamo controllare se in alto sulla sinistra abbiamo l'intestazione ATM ispettori della sosta e se dietro è stato barrato il numero 27 che fa riferimento al loro comando di zona. Il comando di Milano è il numero 27. In questo caso, se noi avremmo parcheggiato la macchina nelle strisce blu senza pagare il dovuto o avremmo parcheggiato la macchina in zone adibite al passaggio esclusivo di mezzi pubblici, solo in quel caso noi saremmo tenuti ad essere sanzionati. Negli altri casi la contravvenzione non poteva essere elevata da questi soggetti che non ne hanno la legittimità. Cosa fare? Allora si hanno 30 giorni per impugnare la contravvenzione davanti al giudice di pace o 60 giorni per farlo davanti al prefetto. Il nostro consiglio è di farlo senz'altro davanti al giudice di pace perché ormai sono quasi unanimi le sentenze che annullano queste contravvenzioni perché illegittime e condannano altresì il comune all'esarcimento delle spese legali. Ricordiamoci di una cosa. Stiamo parlando e viviamo in uno stato di diritto. Uno stato di diritto prevede che ci siano delle regole e dei soggetti legittimati a farle rispettare. Quindi se io commetto un errore in buona o in cattiva fede dovrò essere sanzionato da chi lo può fare a norma di legge. Questi personaggi non lo possono fare a norma di legge e quindi il cittadino deve sapere come difendersi. La nuova legge di bilancio del 2018 contiene molte novità per il mondo del lavoro. Sentiamo cosa ci dice l'Avvocato Pollastro. Buongiorno. Sì. Nei giorni scorsi è stata presentata dal governo le leggi di bilancio ai fini del 2018 in cui ci sono una serie di misure molto ne hanno parlato i giornali la televisione è ritornata su questi aspetti e ci sono anche delle norme interessanti in materia di lavoro. Attenzione stiamo parlando non più di proposti che gli esperti del Ministero stanno studiando. qui abbiamo un testo di leggi di bilancio ma attenzione questo testo di leggi di bilancio da qui ai prossimi settimane a fine anno sicuramente poi dovrà essere verificato ci potranno essere adattamenti modifiche e quant'altro per cui attenzione quando parliamo di leggi di diritti dobbiamo sempre agganciarci ancorarci a delle disposizioni normative precise non è possibile legarsi a ho sentito dire qualcuno ha detto anche i giornali tante volte hanno dei riferimenti che imprecisi bisogna sempre dire la norma dice così poi magari le interpretiamo in maniera anche diversa ma la norma lo zoccolo di base dal quale partire di piedi su quale ci appoggiamo devono essere aspetti normativi non sentiti dire in materia di leggi di bilancio ci sono due argomenti sicuramente importanti la prima riguarda un incentivo all'assunzione di giovani in cui a partire dal per il 2018 in caso di assunzioni a tempo indeterminato e quindi non assunzioni a termine o contratti di somministrazione quant'altro assunzioni a tempo indeterminato il datore di lavoro avrà la possibilità di avrà uno sgavio oggettivamente significativo che potrà avere anche dei risultati oggettivamente importanti nei confronti dell'occupazione perché è uno sgavio del 50% dei contributi fin d'ora il testo della legge di bilancio chiarisce che vale anche per le assunzioni fatte da qui alla fine dell'anno quindi novembre dicembre del 2017 ancorché poi lo sgavio partirà dal 2018 e verrà applicato anche nel caso di trasformazione ad esempio del contratto di apprendistato in un normale contratto a tempo indeterminato quindi tenere sotto controllo questa cosa perché potrebbe essere anche molto interessante l'altro aspetto sul quale varrà la pena di prestare attenzione e verificare esattamente come opererà è una estensione un miglioramento del meccanismo sulla cosiddetta ape donna noi sappiamo che c'è questa possibilità di poter anticipare la possibilità di andare in pensione se si è in possesso di alcuni di precisi requisiti però a fronte di un contributo finanziario che lo Stato chiede allora in questo caso è possibile c'è l'estensione anche nel 2018 ma con aumento miglioramento delle condizioni nei confronti delle donne di almeno 63 anni che non siano titolari di altri trattamenti di pensione evidentemente di fare una domanda qual è l'elemento importante e forte è che c'è una particolare riduzione di contribuzione in funzione della presenza di figli e quindi la possibilità di poter ridurre della contribuzione relativa a sei mesi per ogni figlio fino a un massimo di quattro figli cioè fino a due anni cioè in buona sostanza uno può anticipare la pensione e il carico che viene chiesto l'onere che viene chiesto al lavoratore per questo anticipo viene in qualche modo alla signora che abbia figli viene sicuramente oggettivamente abbattuto attenzione e lo ribadisco sono notizie calde perché ne parlano i giornali ne parla la televisione di queste notizie però verifichiamole eventualmente ci torneremo quando avremo un testo definitivo sul quale ragionare in maniera precisa grazie siamo giunti alla fine di questa puntata vi ricordo che potete scriverci avvocati rispondono chioccioleilcomizio.it noi ci rivediamo martedì prossimo ciao ciao ciao